Salve a tutti senza luce, benvenuti su Top Games. Io sono Samuel ed oggi vi sfracasso ancora l'anima con il sanguinamento. Il video è un po' diverso però non si parlerà di katana e si parlerà di mero e puro sanguinamento, quindi qual è la miglior arma sanguinamento. Per valutare un fattore del genere la prima cosa che ho guardato è qual è l'arma che effettivamente causa più sanguinamento, quale lo attiva più spesso e di conseguenza mi viene comoda per fare più danni e farci una build attorno. La risposta tra tutte quelle che potevamo dare è il bouquet di Val Re, che è un'arma che potremmo ottenere relativamente in fretta, perché la possiamo ottenere ad inizio gioco quasi. Fa un danno che secondo me è bassissimo, cioè nel senso il martello d'arme al più 24, che è l'arma che hanno i cavalieri X del gioco che troviamo nel primo villaggio, fa 258 di danno. Il bouquet di Val Re al più 9 fa 106, più 135. Ha un critico di 100, quindi quasi inesistente, però causa sanguinamento 118. Non è poco, perché se io vado a vedere le lamme gemelle di Leonora, 77, la fiume di sangue, 72, non superiamo mai il 100. E questo qui fa 118 di base. Adesso io mi ricordo che, esatto, lo scorticatore del sacriderma, che io in una build avevo portato a sanguinario, causa sanguinamento 131. Quindi in realtà se modifichiamo un'arma di base con il sanguinario, andiamo ad aumentare di botto il danno che fa. Quindi in realtà non è l'arma sanguinamento più potente tra tutte quelle che possiamo modificare, è l'arma più potente tra quelle base. Perché ovviamente poi modificando le armi di sanguinamento, appunto, riusciamo a portarle anche più in alto. Però quest'arma in realtà ha un insieme di utilità, perché anche la sua abilità, il tributo di sangue, è un'abilità del voto di sangue conferita dal signore del sangue. Esegui un'addorzione per prendere slancio, poi libera una raffica di affondi che sottraggono al bersaglio sangue PV. Ruba vita gratis praticamente. Poi ovviamente lo so che lo starete pensando tutti, il tridente di Mog lo è escluso. Perché non è la migliore arma sanguinamento, è semplicemente un'arma brutale. Cioè uccidi tutti a caso in un'area, quindi vabbè, lo è esclusa. Questo bouquet è una mazza d'acciaio simile a un intrigante bouquet di rose. Ogni petalo ha una lama affilata caratteristica che rende i fiori perennemente coperti di sangue. Quest'arma riflette il particolare eloquio diviso bianco valre, in quanto emana un seducente splendore a cui si accompagnano conseguenze letali. Per impugnare quest'arma ci serve 8 a forza, 16 a destrezza e 24 ad arcano, quindi è legata per lo più ad una build arcano. Ma prima di continuare voglio ritagliarmi un attimo un momento sponsor, perché lo sponsor di questo video ragazzi siamo noi, e ci godo tantissimo a dirlo. Siamo noi perché stiamo rifagendo lo studio, e troverete una playlist dedicata a questo, e la potrete vedere qua sopra. Supportarci è davvero semplice, basta una visualizzazione, un commento ed un'iscrizione sulla playlist che vi lascerò qui sopra. In ogni caso, se ve la siete persa, perché so che ve la siete persa, oltre a lasciarvela qui, ve la lascerò anche alla fine del video. Quindi gustatvela signori. Ma torniamo al nostro fantastico bouquet di Varghe. Ovviamente ho detto anch'io che posso raggiungere quote di sanguinamento più elevate con qualsiasi arma, e l'ho detto non lo nego. Non potremmo far diventare qualsiasi arma sanguinaria dal primo momento del gioco, mentre quest'arma la potremmo ottenere appena arriviamo a Liurnia. Se noi seguiamo la quest di Varghe, ad una certa ci troviamo appunto a Liurnia, che facciamo la missione PvP o con l'evocazione per entrare nel giro di Varghe, quindi sanguinamento, tutto bello, ie ie ie. E lui ci darà il talismano per poter andare nel sottosuolo, nella zona di Mog. Una volta che facciamo questo, seguiamo il percorso per arrivare a Mog, quindi ci esploriamo un po' la zona, ma la potete fare tutta di corsa, gente. Non c'è assolutamente nessuna difficoltà nell'arrivare a questo punto. Una volta che siamo alla Grazia, prima di Mog, vedremo un simbolo di evocazione rosso e combatteremo Varghe. Varghe. E ragazzi, l'avete ottenuta. Cioè, arrivo a Liurnia, posso saltare il castello di Gran Tempesta, arrivo a Liurnia, incontro Varghe, faccio tre volte PvP o ammazzo l'evocazione che devo fare se non ho l'online attivo. Varghe mi dà il talismano, lo uso, arrivo nel sottosuolo, faccio tutta la strada, uccido Varghe, ho il bouquet di Varghe. E come dire, è forte. Cioè, perché quando siamo a Liurnia, se non si esplora tutto, non è che hai tante possibilità di armi sanguinamento. E questa qua appunto fa 118. Non è poco. Questo è il senso del mio video. Come vedrete comunque nel video è un'arma che attiva costantemente il sanguinamento, quindi anche andare a potenziarla con la maschera bianca, col giubilo del signore del sangue e magari con l'emblema della spadalata marcescente che io ho lasciato, ma in realtà non va benissimo perché non è un'arma veloce. Si vanno a far danni, signori, perché il sanguinamento si attiva costante. Se guardate, ogni quattro colpi si attiva. È potente. Di per sé è potente. Ovviamente, quando arriviamo al punto da poter modificare qualsiasi arma vogliamo, il discorso cambia e il bouquet di Varghe secondo me va in secondo piano. Ma anche no, perché io lo sto usando adesso, avendo anche possibilità migliori, e ho dovuto prendere le misure perché è un'arma cortissima. Però mi ci trovo bene. Non è una brutta arma. La cenere, mi piace quello che fa, quindi il rubavita, non mi piace come lo fa. Ti lascia troppo scoperto, secondo me. Ah, e comunque prima che lo chiedete nei commenti, ho la maschera bianca, l'armatura, che sicuramente vi chiederete, la veste da profumiere corrotto, i guanti d'armi dei neri coltelli e schigneri dei neri coltelli. Questo è il set che ho oggi in questo video. In ogni caso, secondo me, è una cenere su cui Scheggia di Alexander non va, perché non fa danni, punta a ripristinare la vita. Non è una cenere come quella delle fiume di sangue che più danni fai più sei contento. Però sicuramente, talismano artiglio, giubilo del signore di sangue, maschera bianca, sono dei must have perché col sanguinamento che si attiva così spesso andiamo davvero a fare un bordello di danni. Cioè, considerate comunque che quest'arma fa 106 di danno e ha arretto abbastanza per tutto il percorso. Secondo me, è una buona arma. È un'arma solida che possiamo trovare relativamente facile nel gioco. Basta solamente soffrire un po' quando arriviamo da Mog. E che dire, è buona. Cioè, poi torno a dire, una volta che abbiamo completato il gioco, abbiamo tutto, il bouquet di varrè va un po' in perdita, appunto, perché non fa danni. E perché, appunto, posso andare a modificare qualsiasi arma e portarla a fare sanguinamento 274. Ma è un altro discorso. Questa è la prima arma potentissima che possiamo trovare nei primi momenti di gioco. E secondo me ne vale la pena. Ma adesso voglio sapere la vostra nei commenti, secondo voi, qual è la migliore arma sanguinamento, considerando tutto, ovviamente. E, signori, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like ed un commento qui sotto ed attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. Se avete anche voi il piacere di supportare il canale, qui sotto in descrizione trovate tutti i link utili come gli abbonamenti, i super grazie, ed anche il nostro canale gameplay, dove recentemente sto caricando poca roba perché non ho tempo, perdonatemi, ma tendenzialmente ho trovato un sacco di video ai primi 30 minuti di vari giochi, With The Swill Den Ring e altra roba. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!